Un'altra vittoria, non era facile dopo aver raggiunto la finale a Mestre, aver giocato match tanto impegnativi, tornare dopo due giorni in campo e essere così, aggressivo e determinato? No, non è stato per niente facile visto che sono arrivato domenica notte qui diretto a Caltanissetta da Mestre, ieri ho giocato mezz'oretta, quindi oggi era per me un match molto importante, era una dimostrazione di carattere visto che non ho nemmeno avuto il tempo di provare i campi e sono contento perché lui è un avversario molto ostico, un argentino, un classico lottatore quindi ho vinto una buonissima partita. Poi per te questo, essendo siciliano, è un torneo particolare? Sì, sì, certo, è un torneo molto particolare visto che gioco in casa, diciamo tra virgolette, c'erano mamma, papà e mio cugino, quindi ci tenevo a fare bella figura e a vincere questa partita. Ultima domanda, ieri hai raggiunto il tuo best ranking, è il tuo finire stagione dove vorresti arrivare? No, ancora è lunga la stagione, il mio unico obiettivo è giocare più partite possibili e per adesso siamo sulla buona strada visto che ho raggiunto la finale settimana scorsa a Mestre, adesso ho vinto una buonissima partita e speriamo di continuare così. Grazie, 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 ciao.